Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, politica algaresa un gallinè, a buon punto fissi simpis e piscina tapara. Primera guerra mondiale, cartolinas di Giovanni Antio Comura, sigla. E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market e i nostri amici catalans. A voi mostro bene il passale, anche al lato mio, di scherzo, la misurità ecologica, dove si agita tutti i rifiuti, insieme al carreo di Gasperi e Giovanni XXIII. A voi un po' di freddo, per questo siamo un po' di pazza. Già di dia, sotto la muraglia del solello, il naral è anticipato, si è anticipato. Bello ragazzo di Carafulma ha un profumo eccezionale. Non sono panciate le labi, ma si vanno a passaggiare in giro per la marina, a che esce a trasformare a un bassi. In una parola, sora Fonia, avemo inteso persone che tenen a corra che c'è mica dell'alguè, dicono che le denunzioni non bastano mai. Con Mororogia a Svizzera, puntualmente arriva un ragazzo. A giugno del 2017, a Banò, dicono che non avevano un responsabile. Al mese d'agosto passato, hanno dato la colpa a un operatore. Avvisati Pompils, Arres, Guardia Costiera, Almirat e sono scompariti. L'Use residenti algaresi domandano che qualche santa s'adonghi che fai. Las pragarias nell'igresa del Carmen, ormai sono a Cabaras. L'alguè un gallinè. Avveno rassevito una letra da una nostra ascoltarora. Ed io sicco algero channel del primo momento. Complimenti a tutti. Grazie. Lo salviso che avevo fatto per la squadra corsia intervistando la maggiori e la minoria del Consiglio Comunale è un messaggio forte e crar. Solti siamo in campagna elettorale. Ma non c'è il Parese di stare a rinzi di un gallinè. Las quattro corsia salvesciano. Tutti di un di si, ma la minoria treutrecca per non liutare insieme. Perché? Si, se ho decolto perché c'è la causa giusta. Perché? Opposizione da molti e di tutti. Chi è sempre davo a un altro giovane che, invece di unire in le lutte che sono di tutti, hanno di fare divisione anche al resto? Proprio un gallinè. Giovanna, 25 anni dell'allie. L'allie, due strutture vanno a una buona fia. I nuovi uffici dell'impianto sono in prassi di smalcazza, in punti di ultimazione. A voi si accade di installare l'impianto elettrico, leggo a Rora, tutto lo che fa in manastè. Posizionati al centro sono pratici per tutti, specialmente per gli anziani. E' ancora una cosa buona che è proprietaria del Comunale. L'altra, l'altra cosa buona, è la piscina Comunale. La piscina Comunale Tappara. Di lunze passate sono arrivati alla sbiga per la tapparura. Pronti tutti i costumi, anche a livello. Ora vedo la regia e le votone margirete. Di vendredi 26 a la 6 di Ratalda, nella Sara Biblioteca Catalana dell'Obra Culturale dell'Alghè, in occasione del santanario della Guerra del 2018, retrospettiva delle strincere e delle retrovie senza alcuna retorica patriottica, vorrei presentare le cartelline di Giovanni Antio Comura, di Bonorva, un alcio privato, ritrovato, alzanzi 90, di Federico Francioni. Intervenzione di Francioni, Giuseppe Zicchi, a studiare in Nini tedesco, che presentarà il numero 6 della rivista Camineras, della quale è direttore. Pino Tiloca, Presidente dell'Obra Culturale dell'Alghè. Per qualsiasi informazioni potete contattare la pagina Facebook dell'Alghèro Channel. Alla prossima!